Macini, intanto partiamo dalla dimostrazione di stima da parte della società, ti hanno riscattato in estate, segno che insomma si crede tanto in te. Sì, certo, è una cosa importante quella che ha fatto la società nei miei confronti e spero di ripagarla con buone prestazioni. Anche se, dice il Presidente, che sei tra i più cercati per il mercato in uscita, però tu resterai? Sì, che io sappia non mi ha cercato nessuno, quindi resto a Pescara. Quindi insomma, comunque è andata come ti aspettavi, ricordo le interviste che abbiamo fatto a fine campionato, spero di restare a Pescara, spero che la società mi riscatti così andata, quindi sono soddisfattissimo dell'epilogo di questa cosa. No, è certo che è una bella cosa se una squadra di Serie B fa questo investimento su un giocatore, anche giovane, quindi vuol dire che c'è un'estima e un'idea importante su di me. Non so se hai dato uno sguardo al campionato che sta nascendo, al di là delle incognite per l'ultimo ripescaggio. Ecco, quali sono secondo te le squadre favorite? Il Pescara può essere tra quelle che può lottare per la Serie A? No, ho visto un po' di squadre, visto che il Breccia si è rinforzato bene, Benevento, Crotone, sono squadre importanti. Verona pure, secondo me ci sarà un campionato più duro di quello dell'anno scorso, ma noi penso che possiamo dire la nostra. Pescara è sotto di queste squadre? Penso di no e spero che non sia così, quindi vediamo a maggio com'è andata.